Sulla facoltà di medicina secondo me c'è una facoltà di troppo, non sta a me stabilire quale delle due perché tutti i parametri nazionali dicono una università ogni milione e mezzo di abitanti. La regione Florencia Giulia come tutti sanno ha un milione e due di abitanti e abbiamo due università con due facoltà di medicina. Stando a questa dichiarazione del consigliere regionale di SEL prenderebbe corpo l'allarme lanciato proprio su Telequattro da Giulio Camber su accordi sotterranei per un possibile trasferimento della facoltà di medicina da Trieste a Udine. La denuncia dell'ex senatore forzista riguardava in generale la riforma regionale della sanità. Su questo punto la replica del consigliere è netta. Allora il centro-destra intanto deve fare un minimo di mea culpa perché per cinque anni ha gestito la sanità in maniera assolutamente criticabile. Tuttavia non sono mancate le critiche alla riforma voluta dalla giunta Serracchiani dallo stesso esponente di SEL. che di professione fa il medico. Io condivido l'impostazione della riforma sanitaria. Su alcuni punti sono critico perché secondo me bisogna stare molto attenti su come si gestisce il cambiamento. I cambiamenti sono sempre difficili perché considero che per esempio sposare un modello organizzativo che non è validato da prove scientifiche sia stato un azzardo. Allora io sono disponibile a cambiare il modello organizzativo se mi si dimostra che il malato da questo nuovo percorso ne esce meglio.